Sì, 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 sì che si può fare, lo dicono loro, loro chi? Ma è di Young? Sì, sì, che si può fare? Dal 16 agosto in sette giorni di trasmissione radiofonica, ma sì che si può fare, si può fare, 168 ore di trasmissione radiofonica, c'è di impazzire, ma si può fare, sì, 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 sì che si può fare, si può fare, sì, 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 si può fare, si può fare, 6.02 minuti primi, ancora una volta, benvenuti in antenna, benvenuti in frequenza, come ben si sa, non è il solito mattino in musica quello che noi presentiamo, 6.07 minuti primi, ok, viva la precisione, 6.07 minuti primi, dicevo, non è quello che, come al solito si può definire un normale mattino in musica, una data memorabile, una data memorabile per cosa? Oggi non è il giorno dei caduti in guerra, non è il giorno, il giorno da ricordare di tutti i santi, è semplicemente un giorno particolare, in quanto il 16 agosto, all'ora e 6 di mattina, due dischi giochi di provincia, due piccoli DJ di Frequenzuol e robe del genere, si cimentano in 168 ore di trasmissione radiofonica. Signori, è da definire la notizia dell'anno, da Radio Catanzaro Nord, in F1 serio, ben sintonizzati, ben ritrovati, a tutti voi dal duo Eddie Young. Radio Catanzaro Nord, sta passando una stella, Radio Catanzaro Nord, è un tela con la squilla, Radio Catanzaro Nord, stai ascoltando Radio Catanzaro Nord, 91 e 600, 91 e 700, 101 e 800, per un messaggio pubblicitario, immediato ed efficace. Sempre dallo studio 1 trasmettiamo notizie regionali RCN Flash. Ai microfoni l'amico Mestriang. Allora, signori, buongiorni, benvenuti a quest'altro appuntamento con le notizie, con lo sport. Primo collegamento che abbiamo con l'Etna, dove c'è stato di l'Universale, dove appunto noi siamo andati con le sue vacche, si è amparato tutto, si è costato comodo e poi ha lasciato tutti quell'animale, elefanti, elefanti, le ha lasciato tutti che ha senza posto, si stava scomodo, si capisce niente. Primo collegamento con l'Etna, state voi a vedere con l'Etna, pronti l'Etna! Per le tue ore in musica, ricorda Radio Catanzaro Nord per vivere naturalmente un minutino, soltanto un minutino con quella che sarebbe la musica folk della splendida Calabria. E qui è questo? Mi chiediamo in mezzo ai piedi, che conta questo in italiano, perra? No, ho scioglato, perra. Ma guarda tu è questo? Qua era questo? Tu? Sì, pari qui in diretta, qui è questo? Diciamo che c'è con noi Mr. Young e chiediamo cosa, Giade. Non posso credere, eh. Diciamo qui in diretta, aspetta che abbiamo chi dice. Pronto, questo è il gioco. Pronto, tu sei Rocco? Sì, sì, sono Rocco, che mi conti tu? Che va mettendo? Senti, sto ascoltando il tuo programma, non so se mi conosci, mi chiamo Young e sono quello che presenta il programma del Sound International qui a Radio Catanzaro Nord. Che conta questo? Usa che? Che dice? International, penso che è internazionale questo Rocco. Senti, tu non mi dici che non conosci il Sound International, un programma che è molto famoso e presso tutto la Litorale Ionica. È un programma che poi si è ascoltato nella stessa radio in cui lavori tu. Non so se ti sei mai trovato ad ascoltare questo programma. Di solito viene proposto il venerdì e la domenica dalle 15.30 alle ore 17.00. È da questa stessa FM in cui tu ti trovi, Radio Catanzaro Nord. Senti, tu devi pure capire, cioè non posso parlare perché tu sai, io occupo così uno spazio per quanto riguarda la musica inglese. Ma vedo che boh, questo parlare, vedo che boh, vedo che boh. Insomma, mi raccomando tutte le storie che ti chiamo internazionali. No, senti, io volevo così. No, tu volevi niente, tu vuoi, se vuoi mi salutare tu hai e basta, ti vai per fuori. Non riesco a capire, perché di solito dove sono andato sono sempre stato trattato bene. Sì, ma che so, che so, che so, per me pare che ha con noi. No, ma quel tuo amico lì, Rocco, cosa vuole Rocco? No niente, per me pare con noi che hai essere ammanigliato. Sì, qua incominciare a mamma inglese 5 minuti, se no davvero non mi ricordiamo. Rocco, Rocco, qua, per favore signor Rocco, che no, che non è che pare tutto così. Senti, vedi che qui cominci a dire qualcosa che non dovessi dire. Qua proprio andiamo d'accordo di niente. Sì, qua su Mr. Yang, Mr. Yang, dopo, ma... Caccia mido, per favore, caccia mido non mi ricordiamo. Mr. Yang, niente saluto non c'è c'è un po' niente. Sì, siamo niente. Sì, siamo niente. questo è diva poco. Grazie a tutti.